Niente più bollettini quotidiani, la Regione Campania dopo tre anni ha sospeso l'invio dei dati sui contagi da Covid-19. Sulle persone infettate dal virus, dunque, morte e ricoverate. Una decisione che i cittadini hanno commentato in questo modo. Assolutamente è un fatto positivo perché bisogna che ci lasciano un poco liberi. Le attenzioni le faremo noi cittadini tranquillamente, chi è cosciente. Penso che sia una naturale estinzione della notizia. Inutile, sì, sì, ormai non se ne vale più. Abbiamo sofferto già abbastanza. Avete ancora paura del Covid? Paura no, però l'unica cosa che ho indossato la mascherina, ma la disinfezione delle mani, pulisci qua, pulisci là, per me non è stata una novità. È certo che fa ancora paura. Mio marito l'ha preso due volte e è stato malissimo. Io credo che c'è bisogno sempre di attenzione. Non mi fa paura, però è giusto che uno abbia delle prevenzioni. Guardi, io facevo il primario di malattie infettive a San Leonardo, quindi mi preoccupa il Covid. Questo Covid non mi preoccupa, mi preoccupano tante altre malattie. Ci sono degli accorgimenti che sono stati, diciamo, dismessi in maniera un poco troppo superficiale e frettolosa. L'uso delle mascherine o al reintegro dei Novax. Sicuramente è stata una grande batosta per tutti, però diciamo che dobbiamo allentare anche noi un po' la presa.